Cari amiche, cari amici che mi vedete e mi ascoltate, siamo in diretta, mancano poche ore alla conclusione di questo anno 2020. Cari sorelle, cari fratelli del rinnovamento nello spirito, ancora a tutti Buon Natale di Gesù, certamente uno dei più poveri ed essenziali che la storia ricordi. Potremmo dire un Natale alla maniera di Gesù, che non ebbe bisogno del Covid-19 per nascere povero, senza casa, senza comfort, senza assistenza medica, senza quella dignità umana che molti di noi in queste ore sentono di avere perduto a causa della pandemia, o forse non hanno mai veramente avuto. Vi prego, qualunque sia la ragione che oggi ci rende tristi, delusi, preoccupati, non vanifichiamo questo Natale di Gesù. Forse il più eloquente e credibile, il più vicino e provvidenziale che ci potesse capitare di vivere. A conclusione di questo anno 2020, che storici e cronisti, politici e scienziati hanno descritto in ogni modo, riempendo le nostre teste e i nostri cuori di mille e mille sentimenti opposti e contrastanti, vorrei rendere manifeste le speranze di rinnovamento che ci animano e che ci conducono a barcare con fede e fede carismatica il nuovo anno 2021. San Paolo VI un giorno così si espresse, come è vera e come è bella la nostra religione cristiana, che ci vuole sempre rinnovabili e rinnovati. Quale freschezza, quale vivacità, quale giovinezza di spirito ci è insegnata, anzi trasfusa dallo spirito. Sì, ogni anno siamo chiamati ad essere rinnovabili e rinnovati, se rimarrà viva ed efficace in noi l'effusione dello spirito. Questo è il primo e il più prezioso degli auguri che sento di rivolgere a voi e ai vostri cari. Intanto si conclude l'anno 2020. Questo nemico, il Covid-19, ci ha permesso di rimettere in ordine le nostre vite, di farci ritrovare le vere priorità della nostra vita. Ci siamo sentiti come scarnificati, in tanti momenti abbiamo sentito le nostre fragilità, la nostra impotenza, la nostra inadeguatezza, come nella visione delle ossa inaridite descritta dal profeta Ezechiele, una valle in cui giacevano in grande quantità ossa tutte inaridite. Questa immagine, terribilmente viva, certamente tra tante altre che potremmo evocare, si è impressa a fuoco nei nostri occhi la sera del 18 marzo, quando 75 camion, piene di bare, lasciavano la città di Bergamo. E che dire potrebbe suggerirmi qualcuno di voi della desolante e ripetuta immagine delle strade e delle piazze deserte, delle chiese chiuse come tutti i luoghi pubblici, di improvviso aridi, abbandonati e senza vita. 2020. Sono stati i giorni e settimane che hanno descritto la devastazione prodotta dallo spirito di morte portato dal Covid-19, un simbolo delle tante afflizioni, delle tante ingiustizie, delle tante malattie, delle tante prove che affliggono continuamente l'umanità in ogni angolo del mondo. Ma al contempo e soprattutto sono stati i giorni e settimane che hanno raccontato il bisogno di risurrezione, di salvezza, di vittoria del bene sul male, della vita sulla morte. In fondo la più potente ed efficace immagine di risurrezione che il mondo intero abbia potuto ammirare ed interiorizzare è quella di un'altra drammatica sera. Era il 27 marzo. Papa Francesco, da solo in piazza San Pietro, incarnava il dolore più profondo, il dolore del cuore di Dio, sofferente e inchiodato alla croce e dava voce al Cristo risorto, dicendo ad ogni creatura sulla terra, perché avete paura e non avete ancora fede? E aggiungeva Papa Francesco, abbracciare la sua croce significa dare spazio alla creatività che solo lo spirito è capace di suscitare. Nella sua croce siamo stati salvati. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza, ecco la forza della fede che libera dalla paura e dà speranza. Sì, c'è speranza, noi siamo uomini e donne di speranza. A mia memoria, mai come in questo anno trascorso, l'umanità si è trovata a fare i conti con la croce, portando la croce, stando ai piedi della croce o salendo sulla croce. Tre condizioni che vorrei sottolineare. Hanno portato la croce tutti i medici, il personale sanitario, i volontari, gli operatori, gli animatori che sono andati in soccorso di chi soffriva. A loro, ancora una volta, diciamo grazie. Sono stati ai piedi della croce tutti coloro che hanno sofferto. Pensando solo al Covid, oltre 2 milioni di contagiati in Italia e quasi 83 milioni nel mondo. E quanti si sono ritrovati nel dolore della povertà? Solo in Italia ora sono 4 milioni e 500 mila i poveri assoluti, cioè coloro che sono privi di beni essenziali, che hanno visto crocifisse le loro attese, i loro sogni, i sacrifici di una vita. Sono saliti sulla croce tutti quelli che con la pandemia hanno perso la vita. Un numero enorme, oltre 73 mila in Italia e più di un milione e 800 mila nel mondo. E quanti altri crocifissi ogni giorno perdono la vita? Pensiamo solo ai martiri cristiani. Nel 2020 è un numero impressionante di morti. Solo 11 in Nigeria, la vigilia della notte di Natale e ancora una volta dentro una chiesa. Eppure, in mezzo a tanti disastri, paure e fallimenti, per dirla con lo scrittore francese Georges Bernanos, moriamo la notte per risuscitare la mattina. Sì, la risurrezione. Nell'anno 2020 abbiamo visto messo a morte l'idolo della ricchezza, risorto in una improvvisa povertà materiale e spirituale, bisognosa di fraternità e di solidarietà. Abbiamo visto messo a morte l'idolo dell'individualismo e dell'egoismo, esorcizzati da un nuovo rispetto per la vita, specie per quella dei più deboli e feriti, in una ritrovata attenzione per le persone care, i familiari, gli amici, i colleghi, specie se malati o sofferenti. Abbiamo visto messo a morte l'idolo del benessere insensato, spesso offerto ai nostri figli senza regole o senza freni, rinato in una richiesta di vita più sobria, più essenziale, più umana. In una parola abbiamo visto il Vangelo risorgere in mezzo a noi, dentro di noi, in un nuovo interpello di salvezza, di vita, di gioia, di giustizia e di pace. Il beato Charles de Foucault, che nell'anno 2020 doveva essere canonizzato, scrisse, tornare al Vangelo è il rimedio, è ciò di cui tutti abbiamo bisogno. Sì, siamo stati cercati da Dio e lo abbiamo ritrovato proprio quando tutto sembrava perduto, archiviato, finito. Così abbiamo visto rinascere il Vangelo. E adesso permettete che esprima dei grazie, alcuni grazie. Grazie a Papa Francesco e proprio in queste ore abbiamo appreso che non potrà celebrare il tradizionale tedeum di fine anno per una sciatalgia che si ripresenta forte, che sappiamo lo affligge. Papa Francesco così profondamente incarnato, padre capace di allargare la visione del bene che ancora dobbiamo compiere, perché possiamo, vogliamo, dobbiamo essere tutti fratelli, a partire dagli ultimi e dai più lontani. Con la sua ultima enciclica Fratelli tutti, in tempo di pandemia, il Papa ci ha insegnato il primato della persona sulle cose, la superiorità dello spirito sulla materia, che la realtà umana è superiore a tutte le idee, i miti, le sovrastrutture che ci siamo creati, che davvero il tempo è superiore allo spazio, come va ripetendo dall'inizio del suo pontificato. Sì, il tempo. Abbiamo smesso di occupare spazi, di sgomitare per conquistarne di nuovi, d'improvviso ci siamo ritrovati ad amministrare il tempo, a fare la conta dei giorni, a desiderare giorni nuovi, giorni di libertà, giorni di felicità. Mai, come in questo tempo aumentato, aperto alla nostra fantasia e ai nostri desideri di bene, l'espressione di Benjamin Franklin, il tempo è denaro, risulta vinta da un'altra espressione del cardinale Stefan Wiczynski, primate della chiesa polacca, che chiese al cardinale Karol Wojtyla di accettare di diventare Papa per guidare la chiesa nel terzo millennio. Proprio lui ebbe il modo di ribaltare questa espressione, il tempo è denaro, dicendo così. Tutti dicono il tempo è denaro, ma io vi dico che il tempo è amore. Il cardinale Wiczynski fu un martire rinchiuso in cella dal regime comunista. Sì, ce lo insegna il profeta Coelet, c'è un tempo per ogni cosa e questo è il tempo di amare. Quanto bene mi ha fatto approfondire e vivere ancora di più questo assunto, il tempo è amore, dedicando 100 trasmissioni online, 100 secondi sui volti dell'amore, con la rubrica La paura fa 90, l'amore 100. E adesso grazie, vorrei dire, a tutti i responsabili del rinnovamento nello spirito, lo vorrei dire a nome del Comitato e del Consiglio Nazionale del Rinnovamento, ma vorrei esprimere il mio personale e speciale grazie a Mario Landi, ad Amabile Guzzo, ai membri del Comitato Nazionale di Servizio, ai membri del Consiglio Nazionale, a tutti i coordinatori regionali, ai delegati nazionali, a tutti i coordinatori diocesani, ai coordinatori dei cenacoli, gruppi e comunità, a tutti i delegati ai vari livelli di ambiti e ministeri, a tutti gli animatori, a tutti i volontari. Con tutto il mio cuore e un numero incredibile di sorelle e di fratelli voglio dire grazie e che il Signore vi benedica. Grazie, lasciatemi dire, anche a Don Guido Maria Pietro Grande, nostro consigliere spirituale nazionale e mio primo confidente per oltre 12 anni. L'anno 2020 lo aveva visto iniziato con noi e aveva festeggiato poi la sua Pasqua, proprio il giorno delle sequie, domenica 8 marzo, giorno in cui peraltro tutte le chiese venivano chiuse per la pandemia. Quando il 28 febbraio intuì che bisognava tornare allo Spirito Santo con la proposta di un rosario dedicato allo Spirito Santo, con una proposta mai prima realizzata in tanti anni di cammino, sentivo vivo nel mio cuore l'invito dell'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera. Avete l'unzione? Vi insegna ogni cosa, state saldi in Lui. Sapevo che la soluzione a tutti i mali che ci sarebbero capitati di lì a poco prima di entrare in questa lunga stagione di privazioni, di limitazioni, di difficoltà ad operare, a fare rinnovamento, a compiere le opere di rinnovamento. Sì, sapevo che la soluzione era nell'unzione, cioè nella fedeltà all'effusione dello Spirito. Grazie allora a tutti voi, amici, che condividete una responsabilità per non avermi mai lasciato solo in questa testimonianza. In quanti modi, certamente con grande fatica, ci siamo ritrovati uniti, abbiamo testimoniato questa fedeltà all'effusione dello Spirito. Quanta fantasia abbiamo esperimentato, quanta corresponsabilità abbiamo toccato con mano, quanti volti, carismi, talenti umani abbiamo scoperto e reso disponibili per il bene di tutti e non di pochi. Mai, e poi mai, in condizioni normali, questo sarebbe avvenuto senza l'unzione. Mai saremmo stati capaci di farcela e di farcela insieme senza l'unzione. Mai saremmo stati così generosi e servizievoli, disponibili ed efficienti senza l'unzione. Mai saremmo stati capaci di rinnovamento in un'epoca così bisognosa di cambiamento e di conversione senza l'unzione. Di tutta questa grazia io personalmente sono fiero e profondamente grato a Dio e a ciascuno di voi che con gioia nel rinnovamento ci siamo lasciati coinvolgere da Dio. Come un padre, sono così felice di questa nostra famiglia ecclesiale che è il rinnovamento di cui per un momento pubblicamente vorrei vantarmi nel Signore. Scrisse un giorno il beato Giuseppe Toniolo, il laico che con Don Luigi Sturzo possiamo definire antesignano della dottrina sociale della Chiesa in Italia e nel mondo agli inizi del secolo scorso. Noi credenti sentiamo nel fondo dell'anima che chi definitivamente contribuirà a salvare la società non sarà un diplomatico o un politico o uno scienziato o un eroe ma un santo, anzi una società di santi. Che bello, solo se saremo una società di santi dunque retta dall'unzione dello spirito che è santo noi saremo un vero rinnovamento che salva, che trova soluzioni, che incarna il Vangelo della salvezza. E grazie adesso vorrei dire a tutti i fratelli e le sorelle del rinnovamento nello spirito e a tutti coloro, e sono numerosissimi, vorrei dire incalcolabili, che ci hanno seguito nella nostra programmazione social e hanno anche condiviso con altri le nostre iniziative spirituali di preghiera, di formazione e di evangelizzazione. Grazie per il sostegno economico che avete voluto assicurarci nel momento in cui la nave è entrata nella tempesta e abbiamo compreso che dovevamo rifare tutto da capo e reinventarci un modo di fare comunità che da virtuale nella forma è divenuto immediatamente reale nella sostanza, nei benefici e nei riscontri che ci hanno invitato ad andare avanti. Non potete immaginare la forza che mi hanno dato, che ci hanno dato le vostre preghiere, le vostre mail, le vostre migliaia e migliaia di messaggi che ogni giorno abbiamo ricevuto da tutta l'Italia e da oltre 53 paesi del mondo che ci hanno seguito. Per noi è stato l'anno della rivoluzione tecnologica e della conversione digitale, vissuta con un'accelerazione davvero impensabile. Partiti agli inizi di marzo i nostri social sono stati seguiti con numeri impressionanti, solo su Facebook 40 milioni di minuti visti, 24 rubriche prodotte e 11 eventi speciali, resi possibili con un coinvolgimento attivo di circa 500 persone, tra collaboratori, volontari, animatori, predicatori, testimoni e soprattutto tecnici, meravigliosi tecnici, molti di questi volontari. E poi dal 16 settembre un nuovo sito web che già registra 70 mila utenti ricorrenti con 800 mila pagine già visitate. Quanta grazia e quanta provvidenza dietro questi numeri. Questo straordinario lavoro di dialogo con il mondo, di apertura a tutti, rivela in fondo la nostra vera anima e lo spirito che sempre deve animarci. Il rinnovamento, vedete, non è mai stato un orto chiuso, una sorta di club di buontemponi disincarnati che si proteggono radunandosi con la preghiera e al meglio si prendono cura dei membri del gruppo di cui sono parte. Se questo è stato in passato o se in qualche modo questo abbiamo testimoniato, io chiedo perdono a Dio e chiedo perdono a voi tutti. Il rinnovamento è una benedizione per il mondo intero, per ogni uomo e donna, in special modo per quanti non hanno ancora fatto esperienza di Gesù vivo e Signore. Il rinnovamento è il tempo dello spirito, un tempo sempre miracoloso. Il rinnovamento è un altro modo di vivere e un altro mondo da condividere, perché si rendano vere ed esperimentabili le parole del salmista. Il Signore è buono verso tutti ed è grande nell'amore. Secondo le parole di Gesù stesso, se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Quale tempo migliore, allora? Quale occasione più propizia del Covid-19 per essere finalmente testimoni di un amore senza misura? Amore che conosce solo i limiti che sappiamo dargli, avrebbe detto San Giovanni Paolo II. Nel 2020 è stato il centenario della sua nascita. Sì, amore senza misura alla maniera dello spirito, che è stato di più e meglio causa di consolazione per quanti sono nel lutto, causa di compassione per quanti sono nella prova, causa di fraternità per quanti sono soli e dimenticati, causa di guarigione morale, spirituale, fisica per quanti sono nella sofferenza, causa di liberazione dai mali per quanti sono sotto l'influsso mortifero del maligno, per quanti sono nell'errore, nell'inganno, nei vizi, nelle mani di nemici, nelle grinfie del peccato, nella paura, infelici, disperati, moribondi. Scrisse un giorno San John Henry Newman, il cardinale inglese convertito dall'anglicanesimo al cattolicesimo. La fede non è una cosa strana, che riguarda persone bizzarre, poco razionali, ma investe tutta la vita pratica nel quotidiano fidarsi di ciò che vediamo e tocchiamo, vivere e cambiare, ed essere perfetti e aver cambiato spesso. Sì, noi non siamo gente bizzarra, per quanto i carismi possano renderci tali in apparenza, ma gente che si fida di Dio e che a Dio vuole affidare ogni cosa, perché sia lui e non noi a cambiare la storia. Che rinnovamento sarebbe il nostro se non fosse capace di cambiare? Il misoneismo, che è la paura della novità del cambiamento, non ci appartiene, non può appartenerci, non può appartenere alla storia del nostro tempo, battezzata da Papa Francesco come cambiamento d'epoca. Grazie, grazie perché ci avete aiutato a cambiare, a rimettere le ali se avevamo smesso di volare, a correre se avevamo smesso di camminare, e a stare in piedi se eravamo seduti. Il desiderio di tenervi vicini, di entrare nelle vostre case per non lasciarvi soli, il pensiero che molti non ce l'avrebbero fatta da soli e che molti avevano bisogno di aiuto spirituale e materiale, tutto questo ci ha spinti a dare capacità alla speranza, a dare nuovi ideali alla fede, a dare grande futuro all'amore. E grazie in ultimo alle famiglie e ai sacerdoti, mai come in questa lunga stagione sono stati espressione della vera Chiesa di Dio. Se l'Eucaristia non è pane sofferto, non è pane insanguinato, non è pane negato per essere finalmente desiderato e mangiato con fame, che Chiesa sarebbe? Non sarebbe la Chiesa di Gesù. Se la preghiera non fosse condivisione della vita, ascolto dei bisogni delle anime, espressione dei gemiti dello spirito, voce che grida più forte delle proteste, la lode e la supplica, che Chiesa sarebbe? Non sarebbe la Chiesa di Gesù. Il digiuno eucaristico, la limitazione delle nostre libertà comunitarie, hanno esaltato il ruolo sacerdotale paterno e materno dei genitori, facendo delle famiglie un'occasione unica per riscoprire lo spirito delle prime comunità cristiane. E i sacerdoti hanno avuto modo di rivedere riconsacrata la loro missione, proprio nella privazione del loro ministero e l'originalità del loro ministero nella vita della Chiesa, la loro capitale importanza per il popolo di Dio, vicini al popolo di Dio. Che ne è ora della Chiesa? Che ne sarà della nostra Chiesa con il nuovo anno che viene? Carissimi, quest'anno che è passato ci dice che non è volata via la vita, ma che abbiamo ritrovato la voglia di vivere e di viverla in modo nuovo, che vogliamo vivere, che dobbiamo ricostruire le nostre vite, le nostre relazioni, le nostre articolazioni sociali. C'è una nuova fecondità, la Chiesa sarà più feconda perché è madre e nei tempi in cui il mondo si mostra sterile lo spirito provvede sempre a renderla più feconda, più provvida e provvidente. La Chiesa è sempre fatta e rifatta dallo spirito e genera uomini e donne nuove. Un martire dei nostri tempi, Vittorio Bachelet, ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse, in un momento tormentato della storia d'Italia, disse, sono uomini nuovi in Cristo e faranno nuovo anche il mondo, coloro che non rinnoveranno la Chiesa se non rinnovando gli altri, a partire da se stessi. Ripeto, non rinnoveremo, diceva Bachelet, la Chiesa rinnovando gli altri se prima non rinnoveremo noi stessi. Sì, siamo attesi, tutti noi, siamo attesi come uomini nuove, donne nuove nello spirito. Non facciamoci illusioni. La fede e il realismo, l'anno che inizia sarà pieno di sfide, di povertà, di tensioni sociali, di bisogni emergenti. La politica, l'economia, la scienza faranno ancora fatica a mostrarsi adeguate al tempo. La gente continuerà ad invocare pane e pace e in gran parte rimarrà inascoltata. Si avvertirà un bisogno ancora più grande di comunione e di fraternità. Solo l'incontro tra la spiritualità e la vita, tra la grazia e la vita del mondo, porranno fine e rimedio a tutte le malattie del nostro secolo e alle attese della gente. Solo la spiritualità potrà divenire antidoto alla disumanizzazione, vero stimolo al progresso umano che tutti invocano, fonte viva di nuovo impegno sociale e culturale. Solo ponendo l'accento sui valori spirituali, noi ridaremo luce a tutti gli aspetti materiali della nostra vita, in società, e aiuteremo tutti ad assumere i giusti atteggiamenti verso gli altri, in special modo verso coloro che soffrono e invocano giustizia. Non lo dimentichiamo, non dimentichiamo da dove abbiamo iniziato. L'unzione, cioè l'effusione dello spirito, è Gesù, il bambino Gesù, che rinasce per ricordarci che c'è bisogno di uomini spirituali e carismatici per invertire il corso della storia. Perché mai, altrimenti, proprio all'inizio della sua missione terrena, in mezzo agli uomini, Gesù avrebbe detto, nella sinagoga di Nazareth, lo spirito è su di me e per questo mi ha consacrato collunzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di grazia del Signore. Sì, inizia un nuovo anno di grazia del Signore. Cari amiche, cari amici, a nulla varrà il progresso della scienza e della tecnologia che in un anno appena ci consegna un vaccino, più vaccini con i quali combattere e vincere il coronavirus, come in altre epoche altre malattie mortali. A nulla varranno tutte le forme di ristoro economico per famiglie, lavoratori, società ed enti. A nulla varranno tutti gli appelli del Papa, degli uomini di cultura saggi e lungimiranti e anche quelli dei politici a servizio del bene comune, se non permetteremo allo Spirito di Dio di invadere la storia, se non saremo noi i pneumatofori del 2021, se non sapremo riempire di preghiera, di vita interiore, di ispirazione, di profezia, di indomito coraggio, di speranza creatrice, di gioia, di prossimità benedicente le nostre città, i nostri quartieri, i nostri condomini, le nostre case. Quest'anno si conclude, uno nuovo inizia e per noi del rinnovamento nello Spirito, con l'eco di una conferenza di tutti gli animatori, tantissimi, oltre 10.500, esortati a dar corso a una nuova stagione di Carità Fraterna. E ci siamo ridetti con forza, riprendendo le parole di Papa Francesco, nessuno si salva da solo, che la condizione perché questo avvenga è che nessuno rimanga da solo, che nessuno provi a fare tutto da sé e per sé. Siamo legati dal principio di fraternità, che deve tradursi gli uni con gli altri, e dal principio di solidarietà, che si traduce ciascuno per gli altri. Questa è la legge dell'amore cristiano che si fa a Carità Fraterna. Vorrei rendere visibile tutto questo con un pane adesso. Un pane che si spezza, eccolo, che si spezza e che si moltiplica solo se si condivide. Se solo siamo disposti a darlo e a portarlo a tutti. Questo pane dovrebbe essere accompagnato dal nostro bacio, direbbe San Paolo. È il bacio santo, è il bacio dell'amore, è il bacio della fraternità, è proprio il bacio della condivisione. E non posso non ricordare in questo momento il gesto che proprio a Betania, il luogo dell'amicizia e della fraternità, con Don Guido Maria Pietro Grande eravamo soliti compiere davanti a tutti i pellegrini, proprio a significare questo bisogno di condividere l'amore. Un pane che si tiene con due mani, che si tiene su due mani. Con uno possiamo darlo e con uno lo possiamo ricevere, perché tutti noi, nessuno escluso, è chiamato a dare ed è chiamato al contempo a ricevere amore. Così, così vogliamo ricominciare, così vogliamo inaugurare il nuovo anno, così vogliamo preparare ancora tante mense, mense familiari, mense eucaristiche, mense comunitarie, mense fraterne, mense sociali, in cui ripetere questo gesto. In futura la tua vita. È uno slogan modernissimo, se non fosse stato scritto molti secoli fa, nel diciassettesimo canto della Divina Commedia del Paradiso, dal divin poeta Dante Alighieri. Immergiamo la nostra vita nel futuro di Dio. in futura la tua vita, perché dove c'è amore, lì c'è Dio, lì c'è futuro. Chiediamo perdono per ogni assenza, per ogni ritardo, per ogni omissione, per ogni colpa, per ogni gesto, per ogni atto senza amore, fuori dall'amore. E infuturiamo la nostra vita d'amore. Infuturiamo di nuovo servizio ai fratelli l'anno 2021. E sarà ancora davvero anno del Signore. Dunque, buon anno, buon anno di cuore a voi e ai vostri cari. Alleluia.